Il villaggio dei murales ancora non ci sono ma la sua mente creativa e fervente già li vede e questa è la ragione per la quale l'ex assessore all'urbanistica di Venezia l'ha ribattezzato così secondo il suo progetto già proposto a Cafarsetti, villaggio nelle cui corti femminili è facile imbattersi in una delle tante preziose, perché storiche, vere da pozzo. Non è un'autentica vere da pozzo, è una coppia, diciamo così, è un'invenzione che però si inserisce all'interno del pensiero con cui fu progettata questa corte. Il villaggio San Marco fu concepito sin dal 1946 dagli architetti Luigi Piccinato e Giuseppe Samona basandosi attraverso statistiche e sondaggi sulle esigenze degli operai di Marghera. Il principio era quello di creare un quartiere in cui potessero convergere e integrarsi famiglie con origini ed estrazioni differenti. Architetto, mi spiega l'utilizzo di queste formelle quando venivano posizionate? Ci sono tante cose curiose da conoscere in merito proprio alla storia di queste formelle. Allora, le formelle furono concepite insieme al progetto generale del piano Fanfani come un ulteriore elemento, diciamo, di novità. Veniva posizionata la formella sul fabbricato, si poteva fare il collardo. Le cosiddette corti riprendono gli aspetti della Venezia minore, studiati appunto da Egle e Renata Trincanato. Erano costituiti da case a due piani, disposte a schiera attorno all'edificio centrale a quattro piani. E che consentì di ospitare molti dei veneziani che erano di provenienza dei sestieri di Castello, di Dorso Duro, da altre zone di Venezia, che furono portati qui in terraferma. Molti di questi lavoravano poi a Marghera ed è uno dei motivi ispiratori dei murales, che sono legati solo ai nomi delle corti goldoniane, delle corti veneziane, ma anche al lavoro della zona industriale di Marghera, le fabbriche.